C'è un alleato a terra! Tiratemi su! Non ho bisogno d'aiuto! Si sono impadroniti dell'intero settore Delta. Impedite agli americani di conquistare tutti i settori! Il nemico è ancora in forze, ma ha accusato il colpo. Granata partita! Abbiamo il controllo del settore Alpha. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ho bisogno di ricaricare! Subiamo bandite! È un soldato nemico! Non ti lascerà morire! Il nemico controlla l'intero settore Delta. Stiamo attingendo le risorse, ma non ce le abbiamo. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. non ci sono un'altra mania. Grazie a tutti. Uno dei nostri è andato! Il nemico sta assaltando Delta 1. Non mi serve alcun aiuto! Ripollimenti, please! Uovo a terra! Uovo a terra! Abbattete questo, stronzi! No! Come non detto! Si è vicino! Copritemi! Sto ricaricando! Obiettivo Delta 1 perduto! Hanno appena preso il settore Delta! Impedite agli americani di conquistare tutti i settori! Non venite qui! Le nostre truppe attaccano Delta 1. Ricarico! Difesa è pronte! Difesa è pronte! Hanno catturato tutto il settore Charlie! C'è il 50%! Li salvo io! Ricarico! Grazie! Keep back! Don't come over here! Umi rai, Don! Ho bisogno di ricaricare! Ho bisogno di ricaricare! No! E la camerai! Vediamo di uccidere tutti i primi! Ricarico! Copritemi! Sì! Io ci ero! Carrus Biele segnalato! Dove? No! Vado a ricaricare! Controllano tutto il settore bravo. Raggiungiamo il punto indicato. Niente! Tutti sono altre munizioni! Sto ricaricando! Nemico vicino! Stiamo attaccando Delta 1! Uomo a terra! Merda! Nemico vicino! Obispoi! Porto nemico, aiuto! Vedi di redizione! Coraggio! Alleato abbattuto! Nemico! Porto! Non è in buio! La NASA lanciata! Indietro! Non è un carro! Zero, grazie! Annullare! Uno dei nostri è andato! Solzato ferito! Le nostre forze sono state dimezzate! Sono qua, vai! Sto persagliando! Cominciamo l'assalto a Delta 1! Non abbiamo aiuto! Cavifiché! Perfetto! Report! Come non detto! Granata partita! Non voglio aiuto! Ricarico! Miglioriamo le difese di questo posto! Le nostre truppe attaccano Delta 1. Allestisco le difese! Hanno preso il controllo dell'intero settore Alpha. L'ignorare l'ultimo messaggio! Raggiungiamo quel punto laggiù! Non avvicinatevi! Controlliamo la maggior parte dei settori sul campo. Logo! Grazie. Ora il settore Alfa è sotto controllo nemico. Un po' di strada da fare. In marcia! Un po' di strada da fare. 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 Uno dei nostri obiettivi è sotto attacco. Uno di strada da fare. 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 di strada da fare. Un po' 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 di strada da fare. il nemico si è impadronito di un obiettivo un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non venite qui! Abbiamo catturato tutto il settore Delta. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. Obiettivo alleato sotto attacco! La vittoria è nostra, Despad! A volte pare perdano apposta. Scontri così e resti in forma. Sì, Angel vince ancora! Sì, Angel vince. È il momento. Sì. 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 Grazie a tutti.